presentato nella serata dell'11 settembre presso il castello angioino aragonese nell'ambito della dodicesima rassegna del settembre culturale al castello l'ultimo libro di fabio canino attore scrittore conduttore tv e radio le parole che mancano al cuore questo è il titolo fabio canino scrive un romanzo che si un viaggio attraverso le ipocrisie del mondo del calcio ma è soprattutto una struggente storia d'amore le parole che mancano al cuore questo romanzo edito da sam che racconta una storia d'amore molto difficile una storia d'amore tra due calciatori di serie a e l'incipe di tutto il libro è sulla importanza di avere il coraggio perché il coraggio ti rende felice a livello artistico i tuoi impegni prossimi a parte la radio su radio 2 che faccio sempre un musical che debutterà a novembre poi andrà a roma per un mese intero insieme a giampiero in grassia che è la piccola bottega degli orrori cilento channel avete la possibilità di vivere in un posto pazzesco sappiatelo